Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Investimento ieri mattina d'Ostra in zona Largo Marina, coinvolta una giovane mamma che insieme a suo figlio stava attraversando le strisce pedonali sul dosso che immette in via Aldomoro, un punto definito pericoloso che è stato già luogo di altri incidenti sul posto ambulanza e pattuglia della municipale. Non si conoscono ancora i dettagli sulle condizioni della donna ma dai primi rilievi sembra non abbia riportato particolari conseguenze se non uno stato di comprensibile spavento illeso il bambino. Dalla 1 novembre il parcheggio dell'ospedale di via Camposanto Vecchio diventerà a pagamento. In questi giorni l'impresa che lo gestisce per conto della curia che ne è proprietaria sta definendo le tariffe in accordo con l'azienda ospedaliera che lo utilizza e il comune di Senigallia. La bozza al vaglio prevede la prima mezz'ora gratis, un provvedimento pensato per gli utenti, mentre per i dipendenti è previsto un abbonamento che consentirà loro di pagare circa 50 centesimi al giorno. È in arrivo un vero e proprio giro di vite per i maleducati che a Senigallia abbandonano i rifiuti lungo la strada nei campi e nei fossi. Dopo la fase di sperimentazione partita la scorsa estate, l'amministrazione comunale è pronta ad attivare su tutto il territorio comunale una serie di cosiddette fototrappole per stanare gli incivili che saranno colti a sporcare e a inquinare in modo da poterli perseguire nei termini di legge. Quasi ogni giorno la polizia locale di Senigallia rileva un incidente stradale in città a volte più di uno, spesso alla colpa di chi guida distratto. Dal 1 gennaio 2019 i vigili urbani hanno rilevato 238 incidenti, dei quali 109 conferiti e uno mortale, un numero troppo alto. Ecco perché ieri la polizia locale ha diramato una nota per ricordare come comportarsi al volante. Ancora una segnalazione per una discarica a cielo aperto, montagne di rifiuti abbandonati sono in bella vista nella zona del Ponte Zavatti a Senigallia nel piazzale dell'ex centro Scarpa. Il cittadino che ha segnalato l'episodio ha immortalato cassette di plastica, sacchi dell'immondizia stracolmi, scatoloni e anche un carrello della spesa. Intanto l'amministrazione comunale ha fatto sapere che è pronta ad attivare da subito su tutto il territorio comunale una serie di cosiddette fototrappole per stanare gli incivili che saranno colti a sporcare e a inquinare. Come annunciato nel corso dell'ultimo consiglio regionale i consiglieri Fabrizio Volpini ed Enzo Giancarli hanno presentato un emendamento al piano sociosanitario regionale 2019-2021 con il quale chiedono l'iscrizione della casa della salute di Arcevia da casa della salute di tipo B a casa della salute di tipo C. Lasciare infatti che la casa della salute di Arcevia sia catalogata come tipo C significa, hanno concluso Volpini e Giancarli, trasformare un ospedale divenuto un modello per la sanità italiana in poco più che una casa di riposo privando i cittadini di servizi fondamentali. Continua il percorso di crescita del settore giovanile della Vigor Senigallia, scuola calcio Vigorina. Il progetto di valorizzazione dei ragazzi prosegue a vele spiegate grazie soprattutto alle consolidate collaborazioni con le società Underlect e Bologna. Nel corso di questa settimana è stato presente il responsabile del progetto Underlect Giovani in Europa, Massimo Sarci, che ha seguito gli allenamenti sul campo di tutte le categorie del settore giovanile. È tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.